Si era infortunato lo scorso 22 febbraio durante la gala contro la Lazio, un'autentica tegola per il Palermo e per la Zara, giovane difensore rosa nero costretto a stare fuori dal campo per almeno tre settimane, proprio nel suo momento migliore. Invece, bruciando le tappe, ha recuperato prima del previsto ed è già abile e arrolabile in vista del delicato incontro di sabato prossimo contro la Juventus. Merito soprattutto dello staff medico, che come riferito dallo stesso Lazare in conferenza stampa, hanno fatto un grande lavoro. Adesso, ha spiegato il giocatore, si tratterà di recuperare la migliore forma fisica che rassicura non tarderà ad arrivare. Ad un passo dalla salvezza, obiettivo stagionale del rosa nero, Lazare non nasconde la soddisfazione per il grande campionato del Palermo e per il suo primo gol in Serie A segnato contro il Napoli. Adesso, ha ribadito il giocatore, è importante continuare a guardare avanti e pensare alla partita contro la capolista, che sicuramente verrà a Palermo per fare punti. Previsto per sabato al Barbera un grande afflusso di tifosi di fede Juventina. Per Lazare, però, contano solo i tifosi del Palermo, che con il loro calore e il loro tifo, ha spiegato, trasmettono ai giocatori rosa nero determinazione e grinta. Felice per la sua convocazione nazionale, Lazare è rammaricato per la mancata chiamata di Dybala nella selezione argentina. L'ultimo pensiero ha solo il nuovo contrattuale. Ne stanno già parlando, ha spiegato, la società e il suo procuratore. Lui a Palermo sta benissimo e quando ci sarà da firmare, ha rassicurato, sarà pronto a farlo.